oggi vi mostro che cosa ho deciso di realizzare per dar vita insomma degli omaggini con queste cose che mi sono rimaste delle mie creazioni quando facevo video su youtube e facevo tantissimi swap avevo la possibilità di scambiare del materiale con chi mi seguiva e queste sono alcune delle cose che mi sono rimaste di tutti i miei lavori di tutti i miei swap eccetera ho deciso di dar vita a degli omaggi e quindi con tutte queste cosine di legno che sono molto molto carina però non utilizzo più per lo scrub booking per fare decorazioni o altro ci andrò a praticamente mettere una mollettina queste non sono tanto buone per rivendere io prima le vendevo adesso ho cambiato comunque articolo quindi ci andrò ad inserire con la mia colla a caldo e le mie decorazioni qua sopra e andrò poi a metterle come omaggio quando faranno le ordine per le decorazioni grandi ci vorrà un pennello grande non scherzo una mollettina grande per tutte quelle invece piccoline spero che mi bastino queste o le mollettine un po più piccole ci sono questo qua è il risultato come vedete queste sono tutte le mie mollettine bellissime e le altre che mi sono rimaste decorazioni le ho messe su alcuni tag e ne ho fatto i cuoricini le farfalline e queste qua così queste sono molto carine potrebbe essere un'idea magari dietro si scrive qualcosa e poi la si appiccica alla bomboniera mi sono rimasti tre cuoricini piccolini non so che farne vedremo